Trovare posto in asilo nido sta diventando sempre più complicato. A Pesaro quasi 230 bambini rischiano di rimanere fuori e altrettante mamme chiedono al comune di provare a porre rimedio. L'assessorato alla crescita di Camilla Murgia ha annotato 93 richieste in più rispetto alle 376 del 2022. Anche in questo caso il comune, come già fatto durante i servizi estivi, prende nota e prova ad organizzare risorse e spazi nella programmazione dei servizi educativi del prossimo anno. La stessa Murgia attraverso un comunicato ufficiale fa notare che interventi di questo tipo devono tenere conto di diverse variabili, dalla individuazione di nuovi spazi a quella di nuovo personale passando per le spese e che dunque non possono essere improvvisati per l'anno scolastico entrante. I problemi di oggi insomma diventeranno il punto focale su cui indirezzare le politiche educative del 2024-2025. Intanto però i numeri del 2023 dicono che su un totale di 469 domande sono 238 i bambini inseriti e 224 quelli in lista d'attesa, ovvero quasi la metà. Nel 2022 le domande erano state 376, i piccoli inseriti 231 e quelli in lista d'attesa 145. Numeri crescenti ai quali finora il comune ha risposto aprendo negli ultimi anni anche tre sezioni primavera che supportano la fascia più richiesta dei 2-3 anni. Uno sforzo che fra nidi e scuole dell'infanzia vale per il comune quasi 10 milioni di euro previsti a bilancio. Una cifra che risulta molto complicato provare ad accrescere ulteriormente senza fondi regionali a supporto. Lo stesso comune di Pesaro fa notare tra l'altro come la regione Marche sia tra le amministrazioni fanalino di coda negli stanziamenti sui servizi educativi.